Buon pomeriggio, buon pomeriggio, bella gente ancora, buona domenica soprattutto e benvenuti in questa nuovissima puntata dell'Ozio Lodco o da da Starry Pitten in Show Gold. Molto bene raga, prima di iniziare la live come sempre vi ricordo a tutti che oltre a me c'è sempre tanta bella gente simpatica in live. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo il nostro Norisawa, Roger Steel, Tifetta, Sarah Connor, Yekoro, Narumi, Dotopucho, Bobo Nauta, il gruppo Net Dream, Simon93 e Blackjacker. Ok, intanto comincio a caricare. Scusate se avevo iniziato proprio adesso ma ho dovuto aspettare perché prima c'è stato un problema di connessione, fosse dovuto per il maltempo. Quindi ho preferito aspettare un po'. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Mamma mia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua. Allora, vediamo se posso potenziare. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Eccoci in macchina. Ehi, ciao, benvenuto. Buona domenica. Abbastanza bene. si cerca di sopra, si cerca di sopra, si cerca di sopra, e... Grazie a tutti. Ecco qui, il laboratorio di ricerche. Grazie a tutti. 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 Un film zombie italo-spagnolo che era ambientato più o meno in Africa. E poi è stato anche realizzato una pellicola remake. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. blood sample. I run a simple test and then we'll know. This is for your own good. Here. Do it. Okay. You will feel a little prick. Nothing to worry about. Do this task for me and the map is yours. You're wasting too much time. See, that wasn't so bad, was it? If I had a little sweet, I would give you one. Ah, Jesus Christ, on a pony. I was merely trying to lighten the mood. It will only take a moment to prepare the sample. Please be patient. I've got your results. You are completely resistant to the virus. I already knew that, Kessler. No, it is not what you think. Your resistance to the virus has kept it from multiplying, from wreaking havoc on your body. But it has not destroyed the virus. It has merely suppressed it. You need to be very careful. Any contact with certain types of reagents could trigger a mutation. And if the virus mutates, it stands to reason that you could lose your immunity. Or much, 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 much worse. Unfortunately, there are so many factors to consider that it is impossible for me to tell you exactly what might happen. But one thing is clear. You should avoid anything that would put you at risk. What are you talking about? Your plan was to use the tunnels to reach Henderson, correct? Yes, the Japanese created them during World War II, and later they were used to store chemical weapons. In the 50s, during a monsoon, there was a leak, and some of those chemicals worked their way into the water. The Aussies sent in a battalion of engineers and soldiers to clean them up. But they weren't successful. When they went into the tunnels, one of them must have been infected. The virus mutated when all hell broke loose. The Aussies had to blow the entrances to prevent the infection from spreading. Most of the men were still down in the tunnels. I have long suspected that exposure to those chemicals is what caused the infected soldier to mutate. Anyway, you need to find the old Jesuit mission. A passageway runs from the ruins down into the tunnels. Here is the map as I promised. I cannot stop you from going down there. That is your decision. But if you do, use an abundance of caution. Try to avoid prolonged exposure to the chemicals. I wish you best of luck. Heaps. Harlow, answer me. Thank God I was starting to worry. Did you get the map from Kessler? Yeah, I got it. Tunnels might be a problem though. You can fill me in when we meet up. Where are you going now? I'm going to find the entrance to the tunnels. Will you help me with one important matter? The tunnels hold the key to this riddle. How can I help? We need more data for my research if I'm going to be able to help you. If you're heading to the tunnels, please, be observant. Bring me whatever unusual you find there. Will you? Sure. Excellent. There might be a strange substance or a monster that you have not seen before. Maybe some trace from the Australian force. The End Grazie a tutti. 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 basta. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . Sì, ho parlato di un vecchio uomo da Lai, ha lavorato in questi tonnelli quando gli austri stavano qui, e ha detto che c'è ancora un'acquipamento in un'argomento non fuori da qui. C'è un pampo in là, puoi portarelo? Allora. Bene, una volta che ti portare il pampo, io prendo l'acqua di questa acqua. Questo potrebbe funzionare, è tutto quello che posso dire. C'è un pampo! Che fa, non hai copi. Ma andate! Un'***** Un'***** Parcum Sno'** Un'***** 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 a meno qua è tutto fortificato non solo gli infectati ma tutti gli uomini, le donne, i bambini i bambini sono balki di questo e non posso li scopo siamo qui per protegere queste persone non per i bambini ho detto Col. Ormsby, il mio comandante che non mandare i miei uomini a curare i bambini i bambini. Col. Ormsby ha detto che la riflessione di seguire i bambini sarebbe considerata grossi insubordination e i miei uomini e io sarei trattati e soprattutto andargetd os traigli Mamma, che succederebbe Let's get to it Ok 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 Perfetto Mi posso poter trasportare subito Do I'm on vacation, this turned out to be here That's better to work, that's all I can say Sì, vieni a guardare i miei fratelli. C'è qualcosa di più utile? Vieni a me più, qualsiasi che trovi! Sì, vieni a guardare i miei fratelli. Sì, vieni a guardare i miei fratelli. Sì, vieni a guardare i miei fratelli. Il vero è molto diventato. Ho stavato. Vieni a guardare i miei fratelli. Vieni a guardare i miei fratelli. Questo è un po' di più. Questo è un po' di più. Questo è un po' di più. Grazie a tutti. 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 Huh. Huh. That's a bit painful. Grazie a tutti. 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 Eccomi ragazzi. Stavo attendendo la pizza ed è arrivata prima. Allora... Vediamo di finire un po' e poi mi fermo per la pausa proprio. Dunque... Dunque... Un po' e poi... 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 non c'è nulla Cosa è questo? Sì. 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 Finché poi non mi ammazzano di nuovo. Sì. 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 . Sì. 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 . 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